Saranno due giorni di grande mobilitazione, il prossimo weekend, sabato e domenica, ed è il primo weekend di primavera, e la politica torna dove deve stare, nelle piazze, incontrare le persone, e l'incontro con azione che proponiamo a tutti i cittadini, curiosi, simpatizzanti, gli attivisti, quelli che vogliono conoscere le nostre poste, quelli che vogliono anche solo condividere una paura, un'impitudine, fare un banchetto, mettersi sulla strada, serve a costruire una relazione, prima ancora che a raccontare ciò che si è nella testa, e tutto questo varrà per uno strumento molto semplice, una lettera di Carlo Calenda che racconta il nostro progetto, che racconta chi siamo, e che vi rivolge un invito, quello di unire le vostre forze alle nostre, sarà la nostra campagna di tesseramento, ma sarà anche la nostra campagna di relazione, di ascolto e di proposta, E allora grazie a tutti i nostri attivisti, quello che farete, le immagini saranno riprese sabato e domenica sui social, grazie a chi si fermerà dedicandoci un minuto, una parola d'ascolto, e ovviamente l'invito è quello di entrare in azione.